In arrivo quasi 300.000 euro dalla regione per i pronto soccorso della TS Valpadano, ovvero Cremone e Mantua, strutture che nel 2017 hanno totalizzato 294.129 accessi, la Lombardia ha messo a disposizione in tutto 4 milioni di euro per potenziare le attività dei pronto soccorso della regione, con il principale scopo di ridurre il sovraffollamento che di solito si verifica nel periodo invernale, considerando le epidemie influenzali. E così, dal 1 dicembre al 31 marzo 2019, tutte le strutture dotate di pronto soccorso potranno utilizzare i 4 milioni di euro messe a disposizione da regione Lombardia per ampliare il numero di posti letto a disposizione per adegenza e potranno inoltre, nel rispetto della normativa vigente in materia, incrementare il personale sanitario necessario per far fronte a un maggior carico di lavoro. Un provvedimento che dovrebbe permettere innanzitutto di ridurre i tempi di permanenza dell'utenza in attesa di ricovero ed evitare che il personale dedicato all'emergenza urgenza svolga un'attività assistenziale aggiuntiva e non specifica.